Mister, arriva questa sconfitta, ma ricordo anche nel match dell'andata il Montesilvano esce a testa alta, anche un po' di sfortuna perché due legni presi. Guarda che noi, che io ricordo, a parte Casalbordino 4-1 e Sant'Egigese qui 0-3, a testa alta, siamo sempre usciti da tutte le parti. Infatti adesso ho fatto i complimenti ai ragazzi perché 5 tiri in porta, 2 traverse, loro 3 tiri in porta, 3 gol. Ma d'altronde stai giocando con il termo, quindi ci sta che loro ti puniscono. L'atteggiamento è stato positivo, i ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto, abbiamo giocato alla grande e l'unica cosa che mi dispiace è che il ragazzino sul primo gol poteva evitare di fare la sciocchezza, quello non era fallo, però poteva evitare di fare la sciocchezza, chiudevi il primo tempo magari 0-0, poi puoi sempre perdere. Però ci ha condizionato un pochettino la ripresa del secondo tempo. Per quanto riguarda il resto, noi, ti ripeto, andiamo avanti fino alla fine, finché la matematica non ci condanna, noi giocheremo così con tutte le squadre fino all'ultimo minuto. Mister, arrivano tre punti importanti su un campo difficile contro una squadra agguerrita che sta lottando per la salvezza. Quindi, insomma, una vittoria che smuove la classifica e il Teramo consolida il primo posto. Sì, sì, un ottimo risultato, anche una buona prestazione, lo sapevo che veniva fuori una partita maschia, una partita scorbutica, anche perché, come hai detto tu, incontriamo una squadra che si deve salvare a tutti i costi e in questo campo fa sempre la partita della vita e, diciamo, riesce a far giocare male le squadre avversarie. Noi forse dobbiamo essere un po' più lucidi in alcune occasioni in fase di possesso, perché potremmo fare, secondo me, più gol, però hanno avuto anche loro le loro occasioni. Siamo stati cattivi nel difendere e ogni tanto un po' fortunati, però oggi era un campo difficilissimo, al di là della classifica del Mondesilvano. Io lo sapevo che usciva una partita così, una partita maschia, una partita sporca, però l'importante è che poi vi portate a casa il risultato. Grazie.